ed eccoci qui sono tornato e non sono solo ragazzi tra un po' ce ne andiamo dagli amici di casa expert vi ricordo che gli amici di casa expert sono l'unione di questi straordinari quattro gruppi gruppo mallardo parente gruppo napoli new electronics gruppo somma che diventano expert campania ovvero la mia nuova casa casa expert e allora andiamoci subito ma che dico subitissimo e questa sera per il gruppo expert parente dovremmo avere pasquale da nola buonasera pasqualino sei bellissimo come stai tutto bene grazie tutto bene ragazzi lasciatemelo dire che io e pasquale ci vediamo spessissimo perché il negozio la sede di nola è ovviamente una sede a me molto vicina sapete che questa succursale di radio crc si trova proprio qui è vero già pasquale con inquadrate le bellissime iconi che tra le altre cose sono state protagoniste di un servizio mediaset di ieri sera che io ho potuto godere giusto raccontaci un po' pasquale dici qualcosa di bello esatto allora luca cosa dire il progetto iconi asce comunque già qualche anno fa e ha come intento quello di andare un pochettino a rafforzare l'ecosostenibilità dei prodotti elettronici come che vanno da monopattini elettrici passando per vici elettriche fino ad arrivare a veri e propri scooter elettrici sì in particolar modo oggi voglio parlarvi del di iconi iconi nasce come marcio che principalmente produce bici elettriche di diverso genere e tra queste oggi vi voglio parlare in particolar modo della nostra buon cara e bella x7 che vedete facci davanti a vedere l'x7 sembra la sigla di una bmw ma è molto di più eccola qua la nostra gara x7 allora da premettere che questo modello di bici viene prodotto attualmente in quattro colorazioni silver, silver start, total black e titanium come caratteristiche principali che la distinguono da altri prodotti abbiamo innanzitutto il display a colori sul quale possiamo rilevare tutte le varie informazioni dedicate per esempio alla velocità che stiamo percorrendo lo stato della batteria magari non so al chilometraggio che abbiamo percorso da quando l'abbiamo acquistato fino al primo momento fino ad oggi e abbiamo anche in fase di accensione la password per poterla sbloccare in modo tale che la bici sia comunque protetta da una chiave come seconda cosa importante è il motore abbiamo un motore da 250 watt con batteria a 48 watt che ci permette comunque insomma di percorrere circa tra i 45 e 50 km di autonomia e fiora l'occhiello sono gli ammortizzatori infatti abbiamo sul telaio sulla forcella anteriore c'è il doppio ammortizzatore mentre invece sul lato posteriore sotto la sella troviamo un bel ammortizzatore idraulico che tra virgolette va a sostenere il nostro peso su qualsiasi manto stradale ci ritroviamo e poi se non sbaglio ci sono anche queste ruote FET che permettono ovviamente di poterla guidare sì ruote FET da 20 pollici esatto ruote FET da 20 pollici che ci permettono di guidarla su qualsiasi tipo di terreno le ruote sono prodotte da Kenda che è leader nel settore mondiale dei pneumatici per questi dispositivi insomma Iconi è veramente forse al momento uno dei prodotti più importanti che esistono sul mercato dato che siamo riconosciuti comunque a livello nazionale siamo uno dei maggiori esponenti per quanto riguarda ma io lo vista dovunque cioè io devo dire la verità attualmente vedo più biciclette elettriche Iconi cioè vedo dovunque ormai quasi tutte le bici elettriche sono Iconi quelle che vedo circolare questo ovviamente vuol dire che parliamo di un prodotto top veramente straordinario se è di Pasquale per poterlo acquistare ovviamente basta recarsi nei vostri punti vendita in particolar modo ricordiamo il vostro dove si trova esattamente noi ci troviamo precisamente a Nola l'uscita è della superstrata strada statale 7 bis chilometro 50 ok venite a trovarci presto vi aspettiamo e niente siamo pronti a farvelo provare quando volete e mi raccomando si vede una nomma mia e tratto la buona assolutamente Luca tu sei di casa quindi per te questo è altro grazie Pasquale sei stato straordinariamente esauriente ti abbraccio forte ci vediamo da vicino ok grazie buona serata a te e a tutti gli amici un bacio grande anche al direttore Nello e agli altri ciao 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 un bacio grande e ragazzi ve l'ho detto io sono di casa lì veramente sono di casa ne sono felice e poi vi invito a provare questa bici ragazzi che è veramente meravigliosa se avete provato una bici elettrica non avete provato comunque Icon E perché Icon E è qualcosa di incredibile ve la consiglio con tutto il mio cuore